e bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video io sono ciovix04 e oggi siamo qui su formula 1 2021 ebbene sì ragazzi siamo qui per la prima volta in questo nuovissimo formula 1 e mamma mia ragazzi non vedo l'ora di gareggiare bene a bando le ciance ragazzi io direi subito di iniziare a gareggiare e ovviamente ragazzi vi ricordo di iscrivervi al mio canale ma anche quelli sotto in descrizione e di lasciare un like a questo video e soprattutto anche un commento bene ragazzi possiamo iniziare allora vediamo un po come va questa gara ora io non so come andrà è la prima gara qua su formula 1 2021 mamma mia vediamo come andrà ora io non lo so la mia curva presa bene ok abbiamo cinque giri da fare ma sono troppo pochi perché avrò sbagliato io nelle impostazioni poi vediamo ragazzi vado a vedere mamma mia iniziamo benissimo vi dico che è in difficile quindi abbiamo aumentato la difficoltà e ho mantenuto praticamente tutto uguale a formula 1 2020 solo che adesso siamo nel 21 quindi è anche molto più bello rispetto al 20 tutti quei bug ho sentito che le avevano risolte quindi avevo deciso di prenderlo siccome io se vi ricordate c'ho la nuova xbox la serie s quindi ho deciso di prenderlo di prenderlo in seconda posizione abbiamo emilton ma che gara ragazzi gara pazzesca dai 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 che stiamo andando bene dai che stiamo andando bene emilton mi sa che ci vuole sorpassare non lo facciamo sorpassare ragazzi ci sta per prendere ma noi no non glielo permettiamo ce l'abbiamo dietro ce l'abbiamo dietro ok ok lasciamolo passare come da regola oh mai che gara ma giusto sentite che se sentite in certi pezzi che non parlo in certi pezzi scusate mi è partito il linguaggio se sentite in certi pezzi che non parlo è perché sono concentrato nelle gare e come lo solito oggi ne facciamo due mamma mia ragazzi bella 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 mamma mia se mi piace addirittura il miglior tempo ragazzi come avete appena sentito ma io che curva presa male quella eh dai 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 vediamo come andrà questa prima gara schianterò come al solito non lo so ragazzi che cartello della dhl l'ho fatto letteralmente a partire vero dettagli mamma mia guardate qualche distacco un secondo da emilton per ultimo giro ma sbaglio sicuro va veramente meglio rispetto al 21 e sia rispetto al 20 scusate a me sembra di sì questa a me piace tantissimo questo formula 1 davvero no 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 eh lo sapevo due secondi di penalità ma per cosa dai ma dove ma non è possibile mi sa che allora non prenderemo il podio per questa penalisa guardate guardate guarda guardate guarda ultimo giro io mi posso già scordare la pole beh sei la pole anzi non è giusto che penso che sto sbagliando certe volte non lo so ultimo giro ultimo giro la concentrazione mi prende ecco appunto la vediamo se riesco a fare una bella staccata di tre secondi la pole position ce la possiamo anche tenere però la vedo dura dai che sto facendo la staccata vediamo in che posizione bandiera scacchi ok vediamo mamma mia ragazzi è stata una gara bella 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 quindi ci vediamo all'altra gara ragazzi sono arrivato secondo secondo quindi ci vediamo all'altra gara ok ragazzi eccoci qua siamo alla seconda gara di oggi vediamo come andrà anche questa e speriamo bene via mamma mia ragazzi i motori che rombi partiamo settimi mamma mia adesso vediamo devo stare attento io sono molto rischioso quando ci sono altre monoposto vicino a me quindi cerco di stare molto attento risolto risolto con i giri ho messo 17 giri per ogni più o meno gara poi dobbiamo stare attenti il primo colpito Sainz mi sembra una leggera tappata abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul dmf mamma mamma mia te pareva niente adesso non posso più curvare infatti guardate ma dai mannaggia ragazzi e adesso la gara si inizia a complicare devo passare i box ho fatto una pazzia ma mi devo fermare i box assolutamente ragazzi se no qua non riusciamo a gareggiare dai veloci 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 più veloci ok via 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 ok davanti abbiamo Vettel ripartiamo per ultimi vai 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 già il secondo dire i box non va bene ok superato splendido bella mossa ah sto stracciato veramente io non ci so guidare quello di Spagna veramente raga dai che le recuperiamo potrai usare drs ricorda però che è consentito solo nelle zone drs e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te non ci so non ci so Oh mio dio E niente ragazzi Siamo scantati Vacca miseria E' andata così Ok ragazzi Purtroppo era andata in quel modo E quindi niente Ah bene ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto E noi ci vediamo da un prossimo video Bella ragazzi